stasera i tifosi dell'inter di obono pensano anzi stasera si danno appuntamento per domattina e costruiranno in piazza duomo la bambola voodoo più grande di questo pianeta perché di obono davvero ragazzi all'epoca di quando era arrivato in serie a 40 milioni un disperato era gioomari un disperato stasera senza rancore senza rancore primo tempo tripletta in 30 minuti ma senza rancore senza rancore senza rancore ma che partita ma che partita stupida che ho visto stasera poi in realtà ne ho viste due perché nel primo tempo una partita nel secondo tempo un'altra partita che ho visto la partita dell'inter stasera non ho visto la partita del napoli bellissima anche quella me l'hanno diciamo raccontata nei commenti insomma ero con con altri ragazzi in una chat di whatsapp però io mi sono visto la partita dell'inter ragazzi bella partita appunto io in realtà ne ho viste due di partita perché nel primo tempo solo ben fia inter inter non non pervenuta o comunque pervenuti bissec e soprattutto devrai devrai gran partita stasera gran partita frattesi un me molto meglio nel secondo tempo in realtà l'inter malissimo nel primo tempo male 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 imbucate continue del 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 benfica che comunque ci ha provato tutto il primo tempo con anche di maria pericoloso raffa pericoloso cioè l'inter nel primo tempo proprio aveva detto no va bene non si scende in campo l'andata avevano vinto 1 a 0 e invece al ritorno alla fine dei primi 45 minuti 3 a 0 senza appello sembrava tra virgolette una partita già scritta anche nel secondo tempo invece come giusto che fosse perché l'inter è una squadra nettamente superiore al benfica a livello di rosa a livello di 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 anche di come sta andando la stagione comunque cioè nel senso non aveva senso un risultato 3 a 0 nel primo tempo così proprio senza senza appello fatti entrano nel secondo tempo tunke coso tunke arnautovic che non è in fuorigioco poi frattesi gran gol e poi rigore su turam che poi tra l'altra il 93esimo 95esimo palo devastante di barella se no l'inter l'avrebbe addirittura ribaltato e sarebbe stato un risultato allucinante però mi ha fatto troppo ridere ragazzi tripletta tripletta di gioco mario penso neanche negli incubi peggiori dei tifosi interisti è come se a noi ci avesse fatto tripletta jovic l'altra sera contro il milan cioè un disperato di buono a parte che l'inter era un inter del cazzo era un inter tremenda dove giocava a titolare di gente come nagatomo però era era un giocatore atteso tantissimo pagato uno stonfo mandato via a calcio in culo per appunto disperato e stasera che poi in realtà da due o tre anni che quando l'è andato via che è ritornato giocatore vero al benfica e stasera ragazzi fatti che voleva gioco mario vabbè così a caso comunque l'inter che si ritrova seconda se non sbaglio a pari merito con il con il società che ha pareggiato stasera col salisburgo però a regola insomma gli servirebbe una vittoria e che il società non vinca la prossima per passare da primo nel girone comunque diciamo fattibile ora non mi ricordo se c'è lo scontro diretto inter società dalla prossima oppure l'inter andrà a affrontare il salisburgo se non sbaglio qual è sì il salisburgo non mi ricordo insomma però comunque fatto sta che all'inter serve per forza una vittoria per perché in questo momento è seconda e il salisburgo e il società scusate ora mi 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 sfugge nel caso non dovesse affrontare l'inter deve comunque perdere a prescindere quindi inter che rischia di passare seconda in un girone facile comunque perché un girone di champions veramente veramente facile cioè non non poteva andargli meglio sotto sto punto di vista e però comunque partita che stasera in realtà sono stati bravi a rimettere in piedi visto che era andata malissimo primo tempo veramente veramente male anzi è andata anche bene 3 a 0 e basta perché in realtà il benfì ha giocato veramente benissimo cioè in realtà l'inter non era in campo vi ripeto c'era solo la difesa bisseg che in realtà ha fatto una buona partita stasera considerando anche l'età e che gioa appunto le partite di champions così e devrai stasera gran partita devrai sembrava insomma il devrai quello dei tempi della lazio diciamo quello quello veramente veramente forte però per il resto in realtà inter che si è svegliata tutto come già detto nel secondo tempo non 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 era una partita credibile nel primo tempo non non c'era verso anche perché a continuare così l'inter che non si sveglia sta partita finiva come quella dell'arsena tranquillamente se a zero perché primo tempo veramente debacle totale appunto è andata anche bene solo 3 a 0 però inter che comunque appunto si porta a casa sto pareggio perché per come si era messa un punto durissimo non doro durissimo e adesso gli manca appunto perché in realtà sono già qualificati però c'è da vedere se da primo o da secondi mentre appunto non l'ho detto ma per quanto riguarda il napoli il napoli se non sbaglio nel girone invece è secondo a questo punto avendo perso il real madrid primo napoli seconda 7 se non sbaglio c'è il braga 4 quindi comunque napoli che non è ancora certo al 100 per cento della qualificazione però siamo lì comunque gran partita stasera dell'inter nel secondo tempo che nel primo ragazzi gioao mario gioao mario e ho detto tutto